A Vercelli, nelle prime ore del mattino dello scorso venerdì, durante l'attività di vigilanza all'interno della stazione ferroviaria cittadina, gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno notato un ragazzo che, alla loro vista, ha cercato di dileguarsi. Raggiunto ha dichiarato di non avere documenti con sé, declinando le proprie generalità. Dopo i primi accertamenti sull'identità, il ragazzo, un 19enne italiano residente nel Bellonese, è risultato in possesso di un coltello serramanico con manico in metallo della lunghezza di 18 centimetri e mezzo di cui 8 centimetri di lama cuminata e tagliente occultato nella tasca dei pantaloni. Il giovane ha asserito di avere il coltello con sé per difesa personale nel caso di una eventuale aggressione. È stato denunciato in stato di libertà per possesso ingiustificato di strumenti atti ad offendere. Voltiamo pagina. Nei giorni scorsi il Comitato Permanente di Sorveglianza e Proposta a Difesa della Sanità Valsesiana e Vercellese ha incontrato a Vercelli l'assessore regionale alla sanità Antonio Saitta e il direttore generale dell'ASL, dottoressa Chiara Serpieri. Commenta il sindaco di Gattinara, Daniele Baglione. L'incontro è stato su alcuni aspetti chiarificatore. Regione e direzione generale ASL hanno confermato la loro volontà di ampliare l'assistenza territoriale con investimenti sulle case della salute sparse sul territorio e hanno manifestato l'intenzione di mantenere e potenziare i servizi ospedalieri a Vercelli e a Borgosesia. Un giovane medico casalese ha ricevuto un riconoscimento a Chicago negli Stati Uniti tra i giovani medici oncologici. Vediamo il servizio. Un giovane medico di Casale Monferrato che vive in Gran Bretagna da circa 10 anni il David James Pinatto si è visto assegnare un prestigioso riconoscimento a Chicago insieme ad altri otto giovani medici italiani al congresso dell'American Society of Clinical Oncology. Si tratta del Conquer Foundation Merit Award. Pinatto, che si occupa di patologie tumorali rare, è al secondo riconoscimento in due anni. Attualmente è ricercatore in oncologia medica al prestigioso Imperial College di Londra che venne fondato dalla regina Vittoria quando la Gran Bretagna aveva un impero. Laureato e dottorato in Italia, Pinatto grazie a una borsa di studio europea, era stato a Zurigo a Vienna prima di approdare oltremanica e svolgere adesso una prestigiosa carriera tenendo alto il nome dell'Italia e anche di Casale Monferrato. A Vercelli è nato il progetto di creare una associazione che si dedichi ad aiutare e a sostenere i malati di Parkinson e le loro famiglie per dare loro un supporto concreto di un nuovo punto di riferimento. L'idea è nata da alcuni volontari e sostenitori dell'associazione APB, amici parkinsoniani biellesi, da anni impegnati in questo settore che hanno visto la necessità di attivare un percorso simile a loro, anche a Vercelli, dove non esiste ancora una realtà dedicata a questa tematica. L'idea è quella di creare quindi una nuova associazione che possa essere ben radicata sul territorio e lavorare partendo da concreti problemi locali. Tante le manifestazioni per il 2 giugno, Festa della Repubblica, dal Monferrato, ci arriva a questo servizio del nostro Massimo Iaretti. Il gruppo Alpini di Ponzano-Monferrato nella frazione Salabue ha una nuova sede. La giornata di inaugurazione è stata animata dal concerto della banda Gianussi di Anoterme, con la presenza di dieci gruppi di Alpini, ognuno con il loro gagliardetto a fare da cornice al vessillo della sezione di Casale-Monferrato. Sono intervuti il deputato Fabio Lavagno, il consigliere provinciale Federico Riboldi, il consigliere comunale di Casale Matteo Vargiolu e il presidente della sezione Alpini di Casale Gianni Ravera. A fare di una ricasera il sindaco Paolo Lavagno con il capogruppo dell'ANA di Ponzano-Salabue e Giuseppe Bianco. Il taglio del nastro è stato effettuato da Sara Bianco, volontaria della protezione civile degli Alpini. Poi ci è stata la benedizione dei locali a parte del rettore di Crea, Monsignor Francesco Mancinelli. L'orazione ufficiale, che è stata anche quella della ricorrenza del 2 giugno, è stata contenuta dallo storico Mauro Bonelli. Il tutto sotto la regia del cerimoniere alpino Ernesto Berra. I ristoranti della Fipe Ascom di Vercelli, mercoledì scorso nella cornice del Salone Dugentesco, hanno fatto il pieno di posti raccogliendo per il progetto Tempo di Leggerezza, rivolto alle persone con disabilità del Comune di Vercelli, oltre 5.000 euro. Esprime soddisfazione il direttore Ascom di Vercelli Andrea Barosolo. Questo evento è un'ulteriore dimostrazione di come, lavorando con professionalità ed edizione, si possano realizzare iniziative di grande qualità anche in tempi strettissimi. Serata musicale domani sera alle Acace di Corso Rigola 128 a Vercelli. Si balla con l'orchestra Lillo Barone e con ospite Marco Zeta. Ricordiamo che al locale vercellese si potrà cenare dalle 20.30 e poi ballare sulle note delle orchestre presenti ogni mercoledì. Bene, prima di passare alla pagina sportiva ci fermiamo per la pubblicità. A Vercelli si rincorrono le voci che vedrebbero il mister della Pro Vercelli Moreno Longo in partenza, e questo nonostante il contratto con i bianchi ancora per una stagione, per l'Empoli, per Empoli o per Frosinone. Noi ci spostiamo invece a Carpi dove il vercellese Giancarlo Romairone, attuale direttore sportivo degli Emiliani, si gioca la promozione in Serie A contro il Benevento. Romairone che sembrava pochi giorni fa casarsi al Chievo per la prossima stagione di Serie A, ora è secondo voci di mercato molto vicino all'Udinese. Parlo da 20 mesi alla squadra perché poi alla fine per poter fare delle cose importanti bisogna creare empatia, quindi è stato così nei mesi scorsi e è così in questo momento. I ragazzi hanno fatto la partita che dovevano fare, quindi non ho visto nessuno scoraggiato, ma se qualcuno lo fosse sbaglierebbe la valutazione. Oggi abbiamo fatto quello che dovevamo fare e da domani se ne prepara un'altra, quindi andiamo avanti con grande serenità e convinzione. Bene, il nostro giornale termina qui, noi vi ringraziamo per averci seguito, l'appuntamento è domani alle ore 19. Arrivederci e buona serata.